Come facciamo questo processo in pratica? Allora, prima di tutto vediamo un flusso base per la registrazione che non dovrebbe essere niente di particolarmente strano perché siamo abituati a registrarci sui siti però diamo un'occhiata da un punto di vista di cosa fa il client e di cosa fa il server. Allora, prima di tutto quando ci registriamo un utente riempirà un form con qualche informazione e queste informazioni includeranno almeno due cose fondamentali in un login con username e password. La password è un qualcosa che sia unico per la nostra applicazione, quello che chiamiamo username ma che può anche essere un'email, un qualcosa che possa identificare univocamente un utente. Un utente su un sito non può avere, non possiamo avere due utenti sullo stesso sito per esempio con la stessa mail. Questo perché sennò non possiamo identificare univocamente l'utente e non possiamo autenticarlo. Quindi l'utente riempie il form, il form viene mandato al server con una richiesta post dopo aver ovviamente fatto tutte le validazioni del caso, lato client, quindi per esempio che la mail sia nel formato corretto, che se c'è un indirizzo, l'indirizzo postale, l'indirizzo postale sia corretto, che il numero dell'abitazione sia un numero, non sono lettere, che la password sia almeno otto caratteri eccetera eccetera. Quindi una serie di validazioni su form in base dei dati che il form richiede. Quindi il form viene mandato con una richiesta post, il server riceve la richiesta e a sua volta valida il contenuto e questo bene o male è quello che abbiamo già visto, abbiamo già fatto perché è un form come altri che abbiamo visto in passato e qui inizia la parte diversa che è relativa alla registrazione. La parte diversa è che il server a questo punto dopo aver validato il contenuto del form che ha ricevuto verificherà se l'utente è già registrato nel sistema. Perché? Perché se c'è già un utente con questa mail o un utente con questo username non potremmo registrarne un altro. Quindi se l'utente è già registrato, il server manderà indietro una risposta al client dicendo qualcosa come un utente con la stessa mail è già presente nel sistema. Se invece l'utente non è registrato, il server inserirà tutte le informazioni necessarie nel suo database e fornirà una risposta del tipo 200K. Quindi dopo questo sesto passo noi avremo il server che metterà in una tabella utenti nel database il nome, il cognome, l'indirizzo, l'email e la password. Ora di tutte queste informazioni la più critica da memorizzare nel server o nel database è la password. Perché dato che la password è quella che ci permette di autenticarci, abbinata all'email, che però l'email può essere anche pubblica, voi per esempio conoscete la mia mail unupo.it, non è un segreto l'email, devo comunicarla se no la gente non può scrivermi. Quindi particolare attenzione va appunto sulla password come meccanismo di credenziali abbinata per esempio all'username nel formato email. E allora questa password come la memorizziamo? Ovviamente è una pessima idea memorizzare la password come testo semplice, in chiaro, nel server, nel database. Mai farlo. La password non va mai memorizzata nel database in chiaro, ma bisogna sempre passare da qualche livello di, chiamiamolo criptografia, il termine più corretto sarebbe hashing. Bisogna sempre realizzare almeno l'hash della password. In modo che nessuno possa, se per caso accede al database o accede a un dump del database, possa recuperare la sua password. Perché se accede al database vedrà nome, cognome, email e poi vedrà un numero, un numero tipo una stringa tipo questa, dollaro 2A qualcosa, e non potrà da questo ritornare alla password vera e propria. Questo perché l'hashing, a differenza della criptografia, è una funzione a una sola direzione. Quindi da una stringa tipo password possiamo ottenere un hash, ma da quest'hash non possiamo riottenere la password, non possiamo riottenere questa stringa. E quale funzione possiamo utilizzare per fare questo hash? Una funzione di hashing che nasce proprio per le password, che è abbastanza comune, è abbastanza sicuro, che si può utilizzare, è per esempio bcrypt. bcrypt, se voi andate su questo indirizzo potete giocare, inserendo del testo e ottenendo un codice tipo questo, e appunto fa l'hash di questo testo in maniera sicura. E in Express possiamo utilizzare un modulo che si chiama bcrypt, che è questo il linkato qui e che si installa con npm install bcrypt, in modo che quando riceviamo la password dal form, noi la prendiamo, facciamo l'hash e memorizziamo l'hash per quell'utente nel database. E la password che abbiamo ricevuto in chiaro ce la dimentichiamo, perché da quel punto in poi il server conoscerà solo l'hash e la persona conoscerà solo la password in chiaro. Qual è invece il flusso base, diciamo così, poi ci possono essere varianti o piccole differenze, per il login? Un flusso ragionevole per il login, così come lo era quello per la registrazione. Beh, come prima, il login parte sempre con un'azione esplicita dell'utente. L'utente riempie un form con un campo unico per il sistema e una password. Di nuovo la username e la password. Poi il form dopo la validazione viene mandato al server con una richiesta post, come il solito, il server a questo punto riceve la richiesta, http post, e fa due controlli. Il primo controllo è verificare se l'utente è registrato. Cioè, se per esempio nel database esiste già un utente con questa username o con questo email. Se non è già registrato, manda una risposta del tipo wrong username sbagliato, oppure mail sconosciuta. Vuoi registrarti? Proprio perché non sa chi sia questo utente, non ce l'ha nella sua tabella. Se invece l'utente è già registrato, fa il passo successivo, che è quello di controllare se la password che ha ricevuto in chiaro dal form corrisponde con l'hash memorizzato nel database per lo stesso utente. E come fa? Fa utilizzando sempre questo metodo bcrypt. Questo metodo bcrypt come funzione di password hashing fa due cose. Uno genera un hash partendo da un testo, da una stringa. Seconda cosa, permette di confrontare due hash per vedere se possono derivare dallo stesso stringa. Allora, alcune funzioni di hashing, data una stringa, ritornano la stessa rappresentazione, lo stesso hash. Altri, come bcrypt, ritornano rappresentazioni diverse della stessa stringa. Però sono capaci di riconoscere che questa e un qualcos'altro sono corrispondenti alla stessa rappresentazione testuale, qualunque essa sia. E questo sempre potete provarlo con questo tool. Questo tool vi permette, partendo da un testo, di ricavare l'hash e poi partendo da un hash e inserendo una parola, vedere se questo hash corrisponde all'hash generato di questa parola, di questa stringa. Quindi questo controllo, quindi il server riceverà la password, calcolerà attraverso la funzione bcrypt l'hash di questa password e confronterà l'hash della password appena ricevuta con l'hash che è memorizzato nel database per l'utente che ha quello username. Se questo check non va a buon fine, quindi l'hash della password ricevuta non corrisponde con l'hash memorizzato dall'utente, risponderà immediatamente al client dicendo password errata, vuoi rimpostarla? Altrimenti, se lo username e la password sono corretti, parte il processo di generazione della sessione. Quindi il server genera una session ID, il server memorizza il session ID da qualche parte, come vi ho detto prima, insieme a alcune informazioni dell'utente, come l'ID dell'utente oppure l'username, quindi associa che l'utente 1 ha questo session ID e quindi questo session ID corrisponde esattamente all'utente 1, non all'utente 2, o all'utente con un certo username o una certa password, quindi mette in coppia session ID e un'informazione o due informazioni dell'utente da qualche parte, come dicevo prima, in sviluppo o in memoria, in produzione è meglio mettere in un database o da qualche altra parte, in maniera un po' più persistente. Dopo aver generato la session ID, il server risponde alla richiesta HTTP di login che è stata fatta all'inizio, alla post con un 200K e abbinando a quel 200K un cookie. Cosa c'è in questo cookie? Come nel grafico di prima, come valore l'ID di sessione, HTTP only true e se fossimo su HTTPS ci piacerebbe tanto dire anche secure true. A quel punto il browser riceve la risposta col cookie e il cookie automaticamente memorizzato e la risposta è poi l'eventuale risposta che riceviamo e poi gestita dall'applicazione web che per esempio può dire benvenuto perché il login è andato a buon fine. Dopo il login, per realizzare quello che abbiamo visto qui, per realizzare questa chiamata, quindi per ora abbiamo visto questo primo pezzo, per realizzare questa chiamata, abbiamo bisogno di proteggere alcune URL perché magari ci interessa che la URL sugli esami sia protetta ma la URL sui corsi no e quindi chiunque possa accedere ai corsi. E quindi alcune root nel server devono essere appunto protette, cioè devono fornire una risposta valida solo per gli utenti autenticati e per gli utenti non autenticati o con un certo ruolo o autorizzati non fornire niente. E ovviamente seguono il workflow che abbiamo visto nelle slide precedenti, quella che ho appena rimostrato. Come facciamo invece il logout? Perché il login crea la sessione, il logout cosa deve fare? Il logout deve distruggere questa sessione. E come avviene questa distruzione della sessione? Avviene con due passaggi molto semplici. Il browser manda una richiesta di logout, per esempio un post a logout oppure una get a localhost 2.3000 a logout. Il server a quel punto annulla la sessione, fa il logout e cancella il session ID memorizzato. A quel punto se il browser anche inviasse il cookie con il session ID che aveva prima di fare il logout, il server non lo riconoscerebbe più perché non avrebbe più la sua, non avrebbe più cognizione di che cosa è questo session ID, perché l'ha cancellato. E quindi non riconoscerebbe l'utente come autenticato. E chiederebbe e risponderebbe con 401, non autorized e così via. Ora, come facciamo tutto questo in pratica in Express? Come vi dicevo, ci sono una serie di best practice e il login, l'autenticazione, l'autorizzazione sono procedure pro e errori e in cui il punto è facile e facile sbagliare, ma su cui possiamo costruire da anni e anni e anni di esperienze di altri sviluppatori. E quindi costruiamo su questi anni e anni e anni l'esperienza degli altri. E per farlo utilizzeremmo un middleware per Express che si chiama Passport, per appunto autenticare gli user. Passport è uno dei forse più, dei principali middleware per Express, non è l'unico per l'autenticazione, non è l'unico e ovviamente si possono fare le cose anche a mano, anche senza utilizzare Passport, però di nuovo è un qualcosa pro e errori, è un qualcosa che bisogna ricordarsi di settare il cookie in un certo modo, di fare tutta una serie di funzionalità che invece Passport gestisce in maniera automatica senza bisogno di implementare ogni singolo funzionalità nel server per realizzare il login, che poi sono funzionalità che sono identiche per qualunque sito realizzato in Express. Quindi Passport ha un sito, ha una documentazione, si installa con NPM come tutti gli altri moduli di Node e alcune caratteristiche molto carine. Per esempio Passport è modulare, quindi supporta in questo momento più di 500 diverse strategie di autenticazione, tra cui nome attente Password, ma supporta anche login con Facebook, login con Google, Wowt, OpenID, eccetera. più di 500 strategie di autenticazione che possono anche essere ovviamente combinate. Quindi uno può partire magari con un sito che offre solo username e password e a un certo punto aggiungere in alternativa all'username e password anche il login con Google senza dover rivoluzionare l'intero server, ma solo aggiungendo una nuova strategia di autenticazione al codice server-side. Essendo flessibile e modulare, è anche capace di adattarsi a diversi tipi di database, quindi non è vincolato su uno specifico database e, è importante in questo caso per noi, adotta alcune delle best practice in automatico, da solo. Per esempio, quando si crea una sessione, i cookie di quella sessione sono già automaticamente impostati con HTTP only. Quindi non dobbiamo noi ricordarci di impostare il cookie ad HTTP only, ma lui appena lo crea la sessione e crea un cookie per gestire la sessione, allora imposta quel cookie ad HTTP only. Non lo imposta a secure, per esempio, perché non sa se il server sarà HTTPS o HTTP e quella invece è una cosa che dovremmo far noi, ma supporta ovviamente la possibilità di configurarlo in modo che la creazione dei cookie venga sempre fatta con anche l'attributo secure a posto. Come si utilizza Passport dopo averlo installato con NPM? Passport ha bisogno di essere, prima di tutto, configurato, configurato nel codice, con tre passaggi. Il primo è quello di scegliere e impostare quale strategia di autenticazione vogliamo adottare, vogliamo utilizzare. E noi utilizzeremo quella classica non utente password. Quindi la scelta la facciamo, è quella classica utente password e dobbiamo impostare cosa vuol dire utente password per noi, per il nostro server in particolare. Secondo, dato che è modulare, dobbiamo personalizzare ed eventualmente installare del middleware addizionale. Per esempio, noi andremo a installare il middleware relativo alle sessioni, perché Passport supporta le sessioni, ma se volete non utilizzarle, si può anche utilizzare senza sessioni e quindi nell'altro meccanismo token-based che vi ho accennato prima, per esempio. Terza cosa, decidere e configurare quale informazione utente è collegato con una specifica session ID. Quindi mettiamo l'ID dell'utente abbinato alla session ID da memorizzare in memoria o da qualche parte nello storage, oppure mettiamo lo username, oppure mettiamo l'ID dell'utente, l'username dell'utente, la mail dell'utente e l'indirizzo dell'utente e la session ID, e così via. Partiamo dalla prima scelta, che era quella della strategia. Noi abbiamo detto che scegliamo la strategia locale, quella che chiama strategia locale, quindi il nome utente password, e vi ho anche detto che le strategie definiscono come autentichiamo gli utenti. Qui c'è un esempio di come si fa una strategia locale. Allora, vedete che si importa Passport dopo averlo installato e poi si importa PassportLocal.Strategy in questa variabile, che appunto è la strategia locale che abilita il nome utente password. A quel punto, dato che il middleware lo utilizziamo come abbiamo fatto con gli altri middleware, in maniera simile a come abbiamo fatto con gli altri middleware. Quindi scriviamo Passport.use e diciamo a Passport di utilizzare la strategia che abbiamo appena importato, quindi la strategia locale. La strategia locale ha un parametro che è una callback. Questa in grassetto. Che Passport chiama la callback di verifica. L'obiettivo di questa funzione, che è praticamente il corpo di questo new local strategy, questo new local strategy ha solo questa callback, è quello di trovare e di verificare l'utente, se esiste, che ha le credenziali che sono state passate. Quindi che ha un username e che ha quella password. E come lo fa? Lo fa come volete voi. L'obiettivo di questa funzione è restituire vero, restituire l'utente se l'utente è stato trovato. Restituire un errore o falso o un avvertimento se l'utente o la password, se il nome utente o la password non è stata trovata e quindi l'utente non esiste o non è corretto. Non è possibile verificare l'utente partendo dalle informazioni nome utente e password passate. E quindi qui per esempio è ipotizzato che avessimo un DAO e facessimo un get user di questo username e quindi un select a stelisco from la tabella utenti dove username è uguale a questo username e questo DAO questa query ritornerà un oggetto e se questo oggetto non c'è quindi la tabella la query ritorna ritorna vuoto non ha trovato un utente corrispondente a un utente corrispondente a questo username viene chiamata questa funzione che viene passata qui che si chiama done che è una funzione fornita dal middleware per passare indietro l'utente autenticato oppure false nel caso in cui l'utente non sia autenticato che ha tre parametri uno è un eventuale errore il secondo è l'utente che è stato trovato in questo caso false perché non è stato trovato niente e il terzo è un messaggio che dice qual è il motivo per cui l'utente ha false il messaggio è opzionale si potrebbe anche finire dopo false quindi se l'utente non è stato trovato ritorno non ritorno un utente e dico incorretto username se l'utente è stato trovato posso fare la verifica della password quindi immaginiamo che questa sia una classe che abbia un metodo check password in cui controllo la password se il check password non va a buon fine ritornerò di nuovo done con nessun errore un errore grave diciamo non un l'utente non è stato trovato un errore tipo http o un errore di accesso al database un errore di quel tipo quindi ritornerò false perché l'utente non è stato trovato e un messaggio appropriato opzionale che è password incorretta a quel punto se l'utente è stato trovato e la password è verificata invece ritornerò done con null perché a questo punto non ho davvero nessun errore nessun problema e user dove user è l'utente che abbiamo ricavato dal database e sarà e rappresenterà tutte le informazioni dello specifico utente quindi se questo è l'utente con la mia mail e la mia password questo user conterrà le mie informazioni così come sono necessarie al sito memorizzate nel database quindi per esempio nome cognome e così via il secondo passaggio è decidere se abbiamo bisogno di middleware addizionale per esempio per abilitare le sessioni noi abbiamo bisogno di abilitare la sessione quindi dobbiamo installare un middleware addizionale che si chiama express session che è da configurare in questo modo come prima come un middleware express quindi scriviamo app.use session e session prende tre parametri obbligatori ne può avere molti di più può avere per esempio dove va a memorizzare la sessione se volete memorizzarla non in memoria però i tre parametri obbligatori sono secret resave e saved initialized questi due sono consigliati a false e li lasciamo a false secret è una frase segreta di vostra scelta che non dovrebbe mai lasciare il computer quindi quella che utilizzate non dovrebbe mai finire per esempio su github come metto io il codice per distribuirlo a voi perché questo middleware utilizza il segreto per quindi utilizza questa frase come chiave di criptografia per generare l'ID di sessione e per criptografare anche in parte la sessione e quindi questo segreto è davvero un qualcosa che può anche non essere particolarmente complicato ma è un qualcosa da tenere privato e dopo aver inizializzato il middleware di sessione si può a questo punto inizializzare passport e si può inizializzare il supporto di passport per le sessioni quindi essenzialmente dire a passport guarda devi usare le sessioni e in particolare devi usare la sessione definita da express session come vi dicevo prima express session e quindi di conseguenza passport section che lo utilizza memorizza la sessione in memoria che è comodo per lo sviluppo ma è fortemente non efficiente e non raccomandato in produzione però appunto express session supporta diversi tipi di storage per la sessione dai file ai database ad altre strutture più complicate e più magari adatte infine il terzo passaggio è la personalizzazione della sessione cioè quali informazioni vogliamo abbinare al nostro session id in questo storage e per farlo dobbiamo utilizzare personalizzare due metodi attraverso la loro sempre callback il metodo serialize user e il metodo deserialize user il metodo serialize user genera un cookie associando allo user id in questo caso l'id della sessione e il deserialize user fa il contrario dato un id ricavato dalla sessione permette di recuperare per esempio attraverso il DAO tutte le informazioni di questo utente tutte le informazioni di questo utente saranno disponibili poi in come nell'oggetto richiesta nelle varie root nella proprietà user esattamente come l'ho chiamato qui quindi il serialize è quella funzione che viene chiamata automaticamente per passare dall'id alla sessione da mandare nel cookie il deserialize è l'opposto è una volta che ho ricevuto un cookie con una certa sessione vado a recuperare l'id che ho associato a quel l'id utente o lo username se volete che ho associato a quella sessione per recuperare tutte le informazioni tutte le altre informazioni dell'utente per verificare per avere le sue informazioni se mi serve il nome o per verificare il ruolo di questo utente e quindi poter procedere e fare azioni diverse in base magari al ruolo che questo utente ha infine dopo la parte di configurazione dobbiamo fare effettivamente il login il login è molto semplice perché è una root che già abbiamo in express per esempio API login in cui in cui fa qualcosa prendendo le informazioni da quest'utente se vogliamo in cui aggiungiamo come secondo parametro in maniera simile a quello che facevamo per verificare i dati ricevuti da un form o i dati di un json ricevuti con express validator mettendo come callback passport come prima callback tra la definizione della root e la callback che definisce che cosa fa effettivamente questa root questo passport punto authenticate con la strategia che devo utilizzare in questo caso la strategia local che è la prima quindi quando riceveremo una post su API login verrà verificato verranno chiamati metodi che abbiamo praticamente scritto prima tutti e verrà a parte quindi verranno chiamati questi due metodi essenzialmente verranno chiamati questi due metodi e poi questo per verificare se il nome utente della password sono quindi anzi verrà chiamato prima questo per verificare che il nome utente della password siano corretti se il nome utente della password sono corretti viene ovviamente creato il session ID e si è realizzato correttamente e a quel punto dentro rect.user avremo le informazioni del nostro utente potremo per esempio rispondere a questa chiamata con il cookie e anche lo username in modo da dire benvenuto username nome della persona l'ultima cosa è come possiamo proteggere le root abbiamo fatto il login abbiamo questa sessione attiva come facciamo a dire che la root esami deve essere acceduta solo da un utente autenticato lo possiamo fare con all'interno di ogni callback se vogliamo utilizzando rec.isautenticated che è un metodo messo a disposizione su rec da da passport che ritorna vero se la session ID che arriva dalla richiesta è valida ritorna falso altrimenti quindi se l'utente è correttamente autenticato è correttamente logato oppure in modo alternativo ma funzionamento uguale è quello di definire un middleware nuovo express quindi invece di utilizzare un middleware creare un middleware e questo middleware può essere utilizzato a livello dell'applicazione o a livello delle singole root dove la differenza è che a livello dell'applicazione diciamo che tutte le chiamate tutte le root definite nell'applicazione server side devono essere autenticate invece a livello di root possiamo dire che solo alcune devono essere autenticate mentre altre possono invece essere non autenticate come per esempio il login quindi questo è un esempio di come si può realizzare un un middleware per l'autenticazione con questo rec posa punto isautenticated vedete che un middleware è essenzialmente una funzione che ha gli stessi parametri che ha una root rec res richiesta e risposta ma anche un parametro next questo parametro next è quello che viene chiamato una volta che la funzione è finita il next chiama la funzione successiva quindi fa andare avanti alla callback che segue quindi definiamo questo middleware che è un middleware abbastanza facile che dice se la richiesta è autenticata allora rispondo next se la richiesta non è autenticata rispondo status 400 e come messaggio non autenticato quindi d'orrore indietro al server e poi lo uso esattamente come utilizzavo passport.authenticate o l'express validator per i form o per per i dati che arrivano in una post quindi come primo come prima callback chiamandola isloggedin senza parametri perché prende i parametri di default che sono request response e next quindi se è autenticato chiamo next e quindi chiamo il corpo di questo API courses che farà una una query al database e recupererà l'elenco dei corsi e in formato json la invierà indietro all'applicazione client nel prossimo video vedremo un esercizio di utilizzo di questo di passport per il login in cui essenzialmente vi mostrerò questi metodi che abbiamo visto nelle slide molto molto simili a questi 99% simila a questo e anche le eventuali piccole modifiche che abbiamo fatto nella parte client side come per esempio il form di login l'esercizio come solito sarà poi pubblicato su github in modo che possiate ragionarci e provarci e provarlo un'esercizio come solito e provarlo un'esercizio come solito